Bella a tutti ragazzi, bello di questo e questo video Oggi come potete vedere siamo sul secondo episodio della RogerCard E qui con me l'ha bella, c'è anche il mio fratello Bella ragazzi Quindi se sentite qualche voce, non ci farvi dire Allora, ci saranno lasciati in questo punto qui Vediamo un po' si Ancora no Ok, allora, vedi Dobbiamo aspettare, solo che si fa giorno Ho cotto delle patate Mangiamo questo Allora Questo mi riprendo tutto Questo è buono Guarda, per momento mi riprendo tutto perché Guarda, voglio rischiare fare un po' in giro Vado un po' in giro così Vediamo un po' se troviamo Un posto Ah, postato nella caverna Allora Vediamo che prima le parti più che lo faccio in là Allora ecco, oh, subito dei meloni Ma non so come questo Allora ecco, subito dei zombie Ok Alla ben raro dei cocone Quindi Quindi Che ono Eh, lo andiamo a tantora Oh 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 Scappa, scappa, scappa Scappa Allora, niente Dobbiamo aspettare Oh, io Dobbiamo aspettare Forse che si fa giorno Perché Qua fuori c'è Uno stile Usciamo qua Scegliamo la robetta Allora Devo, devo correre Oh, pecore Corre Aia 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 Oh È pieno È pieno È pieno Oh Questo Devo Spiegare Mangiamola Patate Sì Ah Dai Immaginavo Eh, siamo morti Sì Siamo morti Allora Abbiamo perso tutto Abbiamo perso tutto Abbiamo perso Cioè Quello che mi dà fastidio È che abbiamo perso Del diamante E vabbè Allora Inizia Eccoci qua Ma ormai Ho trovato Prima di un posto Che mi piace Perché sono morto Di seconde volte E Dopo Che Dopo che Ho camminato Anche Moltissimo Scato Tanta Pietra E non so cosa S'ho soddisfatto Mi faccio Una bella Casa Qua Ok Ci prendiamo Questo margone Ci facciamo La casa E quindi D'episodio Facciamo Una cosa Allora Se questo video Arriva 15 like Iniziamo Anche Con La webcam I video Ti facciamo Anche Con Tutti altri Però Solo se Non funziona Questo video Allora Ovviamente Andiamo Ok Stimulasse E Un'altra Gabriele E' Quindi ho Questo Tappone E la Casa Ne la faccio Visto Che ce l'ho Quindi Che ho Blastoni Allora Ah Poi Cosa Cosa Molto IMPORTANTISSIMO Ho trovato Delle Pegole E dei Cavalli E delle Mucke E Ho Fatto Preso La cosa La Lana La Perle E Cibo Cibo Allora Perle La Cibo Cibo Questa 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 Lo dico Non me la faccio Quando I grandi Sto Verde Per avere Progetto Refuge Facciamo Questa Per il Genere Così Non ci Basta Nemmeno Quindi Penso Che me la finisco Off camera Questa Casa Perché Durerà Tantissimo Questo video Sennò Quindi Superiamo Come sempre I 10 Like Io O me la faccio Off camera Questa Mi rispetto Di questa Casa Off camera Oppure Nel prossimo episodio Dove Andremo Anche A Minare Perché Il Ferro Ce l'avevo O tre Quando L'ho Preso Ah Beh Comunque Oltre Di ferro Oltre di ferro E Niente Quindi Nel prossimo video Andremo A minare Oltre che A chiudere Questa Casa E penso Che la faccio A due pianti La faccio Più Bene Movede Quindi 15 like Iniziamo a Miro Iniziamo a Nella Web E Niente Se Vediamo 15 like Lo ripeto Ancora Un'altra Perché Lo Vi 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 V Vi 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 lo spacchettamento mega da 23.000 FIGAPOINTS per l'Icon a 200 EUR